E' un provvedimento che abbiamo adottato immediatamente, io stesso ho sentito nelle scorse ore il Ministro Speranza, dell'otto che riguarda questa distribuzione in Sicilia come in altre regioni italiane erano arrivate numerose dosi, segnatamente in Sicilia oltre 20.000, 18.000 delle quali già somministrate. L'attenzione è massima, il Governo nazionale ha chiesto ad AIFA e ad EMA di intervenire con rapidità, però noi dobbiamo proseguire in maniera responsabile perché tutti i cittadini siciliani, al pari dei cittadini italiani, hanno visto nella vaccinazione una speranza per poter ritornare alla normalità. E allora serve il massimo della chiarezza, il mio appello, che so essere anche l'appello del Ministro della Salute, è quello lì di dare il più possibile chiarezza e di essere a disposizione, come siamo stati fin da subito, di tutte le autorità giudiziarie inquirenti per poter favorire il più possibile l'accertamento rapido di una verità che serve anche a dare certezza e sicurezza ai cittadini. L'unica autopsia che sembra aver già dato una valutazione dice il contrario. Io penso ci vuole il massimo della prudenza, sono migliaia i cittadini di tutto il mondo che hanno avuto la somministrazione di questo vaccino e bisogna saper pesare bene le parole, avere fiducia nell'attività tanto degli scienziati quanto della magistratura.